Attenzione! Il video che stai per vedere contiene scene di cibo esplicito. Se sei una persona vegetariana, vegana, crudista, celiaca o ancora peggio a dieta, sconsigliamo altamente la visione di questo video. A tutti gli altri auguriamo una buona visione! Oh, kebab! Potrebbe essere interessante assaggiare il kebab albanese! Dai, bomber! Dai, è il nostro, è il nostro uomo! Potrebbe essere quello interessante! Bravamente! Grazie! Dunque, abbiamo deciso di prendere due di quei kebab al pollo e due di quei kebab col maiale, che sono più piccoli di quelli che abbiamo qui in Italia, perché sono in questa maniera e costano molto meno, costano 150 lecce. Proveremo come sono! Pizzante, sa molto di limonato, buono! Bravo, uva rossa! Proviamo! Molto dolce, sa tanto di uva! Bira albanese, va provata! Bira bionda, buona! Né troppo pesante, né troppo leggera, buona! C'è un posto in Albania che si fa a noi questa birra qui! Questo è il piccolo kebab che ci portano, che costa intorno ai 150 lecce, che sono meno di un'ora e cinquanta. Quindi possiamo prendere due, tre, quattro, cinque! Buonissimi! Hanno fatto tutto loro, l'unica cosa che abbiamo tolto è lo yogurt, perché ce n'era veramente troppo. Quindi assaggiamo com'è! Se volete prendere i palpiti prossimo con l'oliovo già mato... Scusa piano! No, così va bene! L'ho preso col maiale, è molto buono, pieno di patatine fritte. Ne vale assolutamente la pena! Andiamo su qua! Vuoi ora? Vai! Assaggiamo questo con il pollo? Sì! Personalmente preferisco quello con il pollo! Che dici tu? Addio! È buonissimo! È buonissimo! È veramente buono, ma è difficile da mangiare. Davvero, veramente buono, ma è difficile da mangiare, perché non è chiuso sopra, quindi si apre tutto. Il ketchup è anche buonissimo. C'è un tempo con la parte della roba del suo, ma è bene. Ma anche io sto facendo questo. Questa roba è io. Sento da qualche parte o qualche spezia? Spezia, ma credo sia nel ketchup. No. 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 Sì, cotto. Sì, cotto. Sì, cotto. Sì, cacci. Dicchietto, meri carri! Dicchietto! Meri carri! Ricordate che anche di arrivare un ottimo... ... ... ... ... ... ... E' un po' di carne per il video, ora guarda qui Posso venire? Un po' di pezzetta ma la carne E' un po' di noi con la ragione Molto buono, super approvato Difficilissimo da mangiare perché si apre tutto ma veramente buono La carne è molto speziata, anzi ha una spezia particolare, non molto speziata Ma ne vale assolutamente la pena E per questo ne prendiamo un altro Primo ho preso il maiale e ora prenderò il pollo Secondo round con il pollo anziché con il maiale Buon appetito E come si affronta sta cosa? Come si affronta? Lo preferisco con il pollo, è più saporito, è più buono Un po' di senape Ciao Ciao, grazie Grazie Fast food Albania molto buono e ci siamo divertiti tanto Anzi più che ci siamo divertiti ci siamo saziati molto bene Abbiamo mangiato due di quei mini kebab a testa che venivano 150 l'uno Poi abbiamo preso due succhi all'uva, bravo Venivano anche quelli 150 l'uno Un Una lattina di ivi Che non è altro che una limonata 100 E infine abbiamo preso una bottiglietta d'acqua che costava 60 In tutto abbiamo speso 1960 Un ottimo pranzo Se il video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale E di attivare la campanella delle notifiche Così rimarrai sempre aggiornato A presto Ciao 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 Grazie a tutti